Ci siamo dedicati con passione, con volontà e con dedizione. L'abbiamo fatto mossi da questi sentimenti, non abbiamo nessun secondo fine. Purtroppo quando si accendono i riflettori su di te c'è sempre una voce fuori dal coro che può dire, chissà che interessa. No, nessuno. Ci stiamo rimettendo, no rimettendo, io sto impegnando il mio tempo, anche con piacere, a fare tutto questo. Il suggello sarà il 14 settembre, il giorno in cui noi saluteremo tutti, si chiuderanno i battenti dell'associazione perché non ha più ragione di esistere. Il motivo per cui era nata questa associazione ed è stato il primo a muovere le acque, è stato Giancarlo Zazza da Ulisio. Diciamo che è stato quello di vedere la squadra iscritta. Noi abbiamo cercato di creare interesse intorno alla squadra, oltre che creare interesse, di raccogliere anche dei fondi. Ci abbiamo provato, qualcosa siamo riusciti a fare. La chiusura sarà degna di una chiusura, degna della nostra città, degna della squadra, non dell'associazione. Per fare qualche nome, di chi ci sarà? Bene, allora, a parte che ci sarà, il filo conduttore sarà fatto dal nostro grandissimo Fausto Mesolella, che sarà insieme, sono due terzi degli Avion Travel, saranno qui. Saranno lui, Ferruccio Spinetti, Peppe D'Argenzio e Mimici Aranella. Parteciperanno alla serata, poi ci saranno personaggi straordinari come Rais, Enzo Avitabile, Massimo Lopez, Mariella Nava, Marco D'Amore, che ci onora. Sono tutti, hanno aderito con entusiasmo, devo dire, veramente con interesse e entusiasmo. Ci onora questa cosa.